dunque quando io sarò grande voglio proteggere tutte le persone voglio proteggerle dai pericoli per la loro salute voglio studiare scienze sconfiggere le malattie e mantenere gli ambienti più sani dappertutto un dottore vuoi diventare un supereroe aprirò la mia azienda di disinfestazione come disinfestatore sarò all'avanguardia della scienza con una delle professioni più importanti al mondo e proteggerò le persone dagli animali più pericolosi non sono gli squali ma le piccole zanzare potrò difendere le persone dalle malattie combattere l'asma e altre cose che fanno star male mantenere gli alimenti sicuri proteggere le persone in ogni modo possibile e migliorare la qualità della vita nel mio quartiere ah già avrò una cintura per gli attrezzi come quella del mio papà ed è per questo che da grande voglio essere un disinfestatore buyer è orgogliosa di sostenere i professionisti nella disinfestazione nel loro importante ruolo di protezione delle comunità e di promuovere l'ingresso nel settore delle nuove generazioni insieme proteggiamo i luoghi dove tutti noi viviamo lavoriamo e passiamo il tempo libero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti